Ora, voglio la mia bandiera. Non è la sua bandiera. Che cosa vuole fare, signor Erwin? Lei ha perso. Non creda che accetterò le sue condizioni. Lei non inserà la bandiera a capovolta. Si stenda a terra o darò l'ordine di spararle. Questo è il mio comando e non le permetterò di ssare la bandiera a capovolta. Tiratore Sheldin, aprite il fuoco. Tiratore Sheldin, ho detto aprite il fuoco. Aprite il fuoco su quell'uomo, è un ordine. Che cosa fate? Che cosa fate? Ho detto di aprire il fuoco. Non permettetegli di dissacrare la bandiera. Aprite il fuoco su quell'uomo. Ma che cosa fanno? Beclare, Nibolt, com'è? Nibolt, resti dove? Non si rifiuti di obbedire. Non vede cosa sta facendo. Non lo vede? Si resta conto che sta minando il mio comando? Non lo vede? Non capisci cosa sta facendo? Non vede cosa sta facendo? Si è allontani dalla bandiera! Si è allontani dalla bandiera! Colonnello! Colonnello, metta via la pistola! Signore! La prego! La prego, colonnello, metta via la pistola! Colonnello! Signore, è finita ormai. La... La dia a me. Detenuti, state giù! Ehi, doc! McLaren, vi riporti in cella! Squadra A, squadra B, portateli via! Andiamo! Andiamo! I detenuti tornino nelle loro celle! I detenuti tornino nelle loro celle! Doc! Devo fermare l'emorragia! Devo fermare l'emorragia! Voglio andare con lui in ospedale! Non posso lasciarlo così! Bisogna fermare l'emorragia! Voglio andare con lui in ospedale! Ehi, mani sopra la testa! Ehi, mani sopra la testa! Ehi, mani sopra la testa! Un grande generale una volta ha detto Dite agli uomini, voi siete soldati E quella è la nostra bandiera Ditegli, nessuno può prenderci la bandiera Issatela perché sventoli in alto Dove tutti possano vederla A questo punto avete un castello Ehi, mani sopra la testa! 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 Ehi, mani sopra la testa!